video news di venerdì 13 maggio i titoli il vino delle marche protagonista pro wine la fiera tedesca per il business enologico internazionale svelato il programma dell'edizione 2022 di lunaria ha recanati con tre diversi appuntamenti si consolidano i rapporti tra tolentino e la città gemellata slovenia di isola distria e nello sport il giovane alessandro capradossi si è diplomato campione provinciale di ruzzola coppie ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news nella tarda serata di ieri i carabinieri di civita nova porto potenza picena monte lupone porto recanati hanno effettuato un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio la repressione dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti il consumo indiscriminato di alcolici ed il controllo alla circolazione stradale individuati quattro conducenti con guida e stato di ebrezza un 48enne di porto recanati è stato fermato alla guida della propria auto e trovato con quattro dosi di cocaina mentre una 45enne salentina è stata sorpresa mentre indisturbava e girava per le vie del centro civitanovese nonostante fosse destinataria di foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dalla questura di macerata come del resto un cittadino straniero rintracciato ieri a monte lupone dove era stato allontanato con un altro foglio di via un operaio 54enne di tolentino aveva costruito una palestra abusiva in casa propria l'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialli della tenenza di camerino e dalla polizia locale di tolentino a destare sospetto ai finanzieri la pubblicità diffusa via social della stessa donna infatti nei filmati promozionali pubblicati in rete si intuiva che l'ambiente della palestra fosse piuttosto casalingo anche se ben provvisto di attrezzi e pesi ma quando lei stessa in un video ha affermato benvenuti a casa mia a quel punto non ci sono stati più dubbi e a casa sua sono andate le fiamme gialle camerti a finire nei guai è stata la donna che proprio al piano terra della sua abitazione aveva messo in piedi una vera e propria palestra completamente abusiva le fiamme hanno sequestrato attrezzi e pesi e segnalato il tutto alla procura di macerata erano circa una trentina i suoi clienti abituali molto soddisfatto dell'obiettivo raggiunto l'assessore regionale al lavoro stefano aguzzi all'indomani della firma da parte di 104 lavoratori dello stabilimento di jesi dell'azienda caterpillar agli accordi per l'inserimento graduale alla imr industriale sud spa ad affermarlo dopo la tappa finale dell'avertenza con la firma degli accordi da parte dei lavoratori e dipendenti al passaggio a imr riprendono gli appuntamenti del forum regionale per lo sviluppo sostenibile il confronto aperto con i cittadini sui cambiamenti climatici per accogliere proposte ed idee in preparazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici si avvia così la seconda sessione del forum che si concretizzerà con una serie di incontri online da martedì prossimo sul tema il clima nelle marche presente e futuro che proseguirà poi fino a giugno con sei appuntamenti divisi sul territorio tra entorterra e costa e sviluppati con il csv marche presentati i risultati del progetto isola indicatori di sostenibilità locale per l'ambiente un'iniziativa lanciata dall'arpam in collaborazione con anci marche e regione a supporto della sostenibilità delle scelte e delle azioni per la qualità della vita delle realtà locali marchigiane e della loro divulgazione scopriamo quindi di più nel primo servizio di quest'oggi diffusione della conoscenza e valorizzazione dell'ambiente è questo il percorso che segna l'impegno di arpa marche verso gli obiettivi di sostenibilità designati dall'agenda 20 30 adottata dall'assemblea generale delle nazioni unite e declinata nel nostro paese con la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e le susseguenti individuazioni da parte delle regioni degli obiettivi specifici locali e delle azioni loro collegate ci si aspetta innanzitutto una maggior un maggior coinvolgimento della popolazione perché possa acquisire coscienza e consapevolezza dello stato di salute complessivamente buono diciamo dell'ambiente marchigiano ma di tutti i comuni con alcune criticità che l'indagine ha individuato e che consentiranno al cittadino di poter valutare diciamo anche l'attività dei propri amministratori e indirizzarla per determinate scelte quando queste criticità evidenziano delle problematiche specifiche ma secondo me è uno strumento molto utile anche per gli stessi comuni tant'è vero che l'Anci ha partecipato attivamente a questa iniziativa perché consente ai comuni soprattutto in questa fase in cui le risorse del PNRR consentiranno di fare investimenti importanti anche in campo ambientale di poter indirizzare le proprie progettualità le proprie programmazioni di intervento su quelle criticità che il lavoro ha evidenziato e che riguardano possono riguardare l'acqua come possono riguardare il consumo del suolo così come possono riguardare la qualità dell'aria o altri altri fattori diciamo che comunque quotidianamente coinvolgono la nostra vita ecco e da cui dipende la nostra vita. Oggi gli obiettivi internazionali che sono molto importanti e molto impegnativi per l'Europa per l'Italia per tutti la transizione ecologica eccetera sono tutti strumenti che partono e si basano sulla lettura attraverso indicatori perché gli indicatori come quelli che abbiamo fatto nei 33 comuni delle Marche sono lo strumento che oggi a livello internazionale è consolidato per far capire qual è la situazione e sensibilizzare non solo le realtà industriali e di amministrazione del territorio ma anche i singoli cittadini. L'indagine è stata svolta cercando di reperire tutti i dati informazioni dalle banche d'ase esistenti quindi a partire dall'istat poi abbiamo le banche dati nostre perché nell'ARPAM c'è sia l'osservatorio rifiuti abbiamo l'anagrafe dei siti inquinati collaboriamo direttamente con il ministero nella definizione del consumo di suolo attraverso l'elaborazione delle immagini satellitari quindi dei dati abbiamo cercato di privilegiare quelli che avevamo disponibilità. Negli altri casi abbiamo chiesto informazioni agli uffici regionali abbiamo chiesto informazioni ad ARERA abbiamo chiesto informazioni e dati ai comuni anzi devo dire che è stata un'occasione per conoscere personalmente le amministrazioni di tecnici comunali abbiamo stretto così diciamo dei rapporti abbiamo fatto capire l'importanza di fornire questi dati sempre nell'ottica della sensibilizzazione degli utenti dei cittadini allo sviluppo sostenibile eccetera quindi i comuni ci hanno dato tutti la massima disponibilità seppure tra mille difficoltà perché noi abbiamo comuni anche più piccoli diciamo che sono meno strutturati per cui l'ufficio ambiente magari fa parte anche dell'ufficio lavori pubblici e quindi gli impegni sono tanti ma devo dire che nessuno si è tirato indietro. Il vino marchigiano torna protagonista a Pro Wine la fiera tedesca di riferimento per il business enologico internazionale in programma a Dusseldorf dal 15 al 17 maggio. Unite sotto il segno della promozione della produzione vinicola regionale sono 39 le aziende e socie dell'istituto marchigiano di tutela vini presenti alla fiera di cui 24 aderenti alla collettiva coordinata della regione. Le altre 15 esporranno invece in spazi propri o di distributori. Non solo export perché con oltre 6.000 ettari dedicati al biologico e 132 cantine che nell'ultima campagna ventemiale hanno prodotto quasi 163.000 ettolitri di vino bio le marche si confermano uno dei principali hub green in Italia con un'incidenza sul vigneto che ha raggiunto una quota percentuale del 35,6% e che di fatto doppia anche la media nazionale ferma al 17,5%. E domani sabato 14 maggio i volontari del gruppo comunale di protezione civile di San Severino coordinati da Dino Marinelli saranno impegnati nel dare supporto alla campagna Dona la spesa promossa da Coppa Alleanza 3.0. All'interno del punto vendita di via Virgilio sarà possibile lasciare i prodotti che si intendono donare a favore delle famiglie settempedane in stato di bisogno. Si raccolgono olio, tonno e legumi scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, prodotti a lunga conservazione per l'igiene della persona e della casa e anche prodotti per l'infanzia. Nuovo appuntamento del Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo con studiosi da Italia, Belgio, Spagna e Brasile. Sono queste alcune delle nazioni di provenienza dei docenti, studiosi e ricercatori che dal 16 al 20 maggio si confronteranno per la sesta settimana di eccellenza. Lunedì prossimo, 16 maggio, si terrà la cerimonia di apertura. Martedì 17 si apriranno i lavori del convegno, l'internazionalizzazione del sistema scolastico e universitario italiano dall'unità ad oggi. I lavori proseguiranno mercoledì 18 sul ruolo dell'Unione Europea e delle altre istituzioni e agenzie internazionali nell'evoluzione del sistema formativo italiano. Per giovedì e venerdì seminari e laboratori di alta specializzazione per studenti e dottorandi. Per maggiori informazioni visitare il sito unimc.it. Il Comune di Recanati presenta il cartellone della Matara Segna Estiva curata da Musicultura Lunaria 2022. Scopriamo quali sono gli artisti che si esibiranno nel corso di tre diverse serate nel servizio. Lunaria, ideata e artisticamente curata da Musicultura, è la manifestazione che dopo 25 anni di vita, oltre 100 ospiti sul palco e tante serate memorabili di spettacolo, è ormai parte costitutiva del DNA della città di Recanati. Svelato infatti ieri il programma dell'edizione 2022. Tre gli appuntamenti artistici, due dei quali in piazza Giacomo Leopardi, l'altro all'orto sul Colle dell'Infinito. Ci ritroviamo per Lunaria, Lunaria 2022, una Lunaria finalmente post-pandemica per cui con capienza normale. Tre appuntamenti molto diversi da loro che con un filo conduttore che unisce musica di grande impatto, il sound, le canzoni e la parola. Cominceremo con i Subsonica, lunedì 16 luglio in piazza Leopardi, una grande festa al dio Groove, è una grande festa danzante. Proseguiremo il 22 di luglio all'orto sul Collo dell'Infinito con una pièce unica, ovvero la storia di Chet Baker, il grandissimo trombettista jazz raccontata dalla tromba di Fabrizio Bosso, dal pianoforte di Manzariello e dalla voce narrante di un grandissimo attore Massimo Popolizio, tutti e tre molto intrigati artisticamente e umanamente dalla vicenda di Chet Baker. E chiuderemo il 28 di luglio di nuovo in piazza Leopardi con Irene Grandi e la sua band, con un concerto ispirato dal blues, per cui il repertorio di Irene Grandi in versione blues e i grandi, le grandi hit, standard internazionali del blues che tanto hanno influenzato gli avvi della carriera artistica di un artista così amata e così pura come Irene Grandi. Noi continuiamo in questa tradizione e ogni anno cerchiamo di offrire qualcosa anche di nuovo che sia in linea con quelli che sono i livelli culturali del passato. Quest'anno devo dire che Lunaria ci sorprende e penso che sia veramente un'occasione per accontentare un po' tutto il pubblico, quindi abbiamo diversificato un po' il target con sicuramente due serate dove ci saranno un pubblico più giovane ma anche un pubblico più scatenato, mentre l'appuntamento sul Colle dell'Infinito devo dire che è una chicca che abbiamo iniziato l'anno scorso, quindi questa nuova location per Lunaria e quest'anno raddoppiamo con questo momento magico perché quando si è sul Colle dell'Infinito ovviamente la poesia la fa da padrona. Ci sarà anche Alex Schwarzer, campione olimpionico del 2018 tra gli ospiti della rassegna Passaggi di Benessere, che il Festival della Saggistica Passaggi dedica alla salute, allo sport e al benessere psicofisico. In programma quattro presentazioni librarie da giovedì 23 a domenica 26 giugno. Da quest'anno vanno ad affiancarsi alle altre rassegne specialistiche su arte, scienza, filosofia e tecnologia digitale con le quali il Festival arricchisce il suo programma in una nuova sede, il quattrocentesco chiostro delle Benedettine nel centro storico di Fano. L'impegno ambientalista di 12 donne italiane sarà il tema dell'incontro inaugurale della rassegna che vedrà la partecipazione di Paola Turroni con il suo libro Le sfumature del verde. Incentrato sui temi della natura e del cambiamento climatico sarà invece l'incontro di sabato 25 maggio con Alberto Grandi, che insieme al critico letterario Antonio Riccardi presenterà il suo ultimo libro. A fermo si apre la nuova stagione del Festival Andrea Postacchini con un 2022 ricco di eventi ed ospiti a cura del centro culturale Antiqua Marca Firmana. Proseguono i preparativi per le grandi novità tra esperienze digitali, degustazioni, kermesse outdoor e tanto altro. Primo appuntamento sabato 21 maggio alla Sala dei ritratti a Palazzo dei Priori con la conferenza stampa inaugurale. La seconda iniziativa sabato 4 giugno in pressa del popolo sempre a fermo ad un'intera giornata di festeggiamenti in occasione dell'evento Postacchini chi era costui. Terzo appuntamento la serata d'autunno il 24 settembre al Teatro dell'Aquila, dove dalle ore 21 suare di gala con gli archi della Scala, quartetto e sestetto con musiche di Rossini, Paganini e Tchaikovsky. Si chiuderanno il primo giugno le iscrizioni al Nico Music Camp and Tour 2022, progetto che punta a realizzare un'orchestra e un coro giovanile con ragazzi provenienti dalla realtà musicali dell'Alto Maceratese. Due i camp attivati, il Nico Junior per bambini da 7 ad 11 anni, terrà le attività di studio e laboratoriali presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Strampelli di Castelleraimondo. Il Nico pensato per ragazzi tra gli 11 e 20 anni con competenza musicale si terrà a Camerino all'Auditorium Benedetto XIII e alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Ugo Betti. Le iscrizioni dovranno per venire entro il primo giugno compilando il form sul sito internet nico.it alla pagina pre-iscrizioni. Seguirà anche il Nico Tour dal 15 al 19 luglio che porterà i ragazzi ad esibirsi nei comuni di Castelleraimondo, Camerino, Petriolo, San Ginesio ed infine Tolentino. L'amministrazione tolentinate guidata dal sindaco Giuseppe Pezzanesi ha incontrato questa mattina una delegazione proveniente da Isola d'Istria, città gemellata, per discutere insieme i prossimi scambi tra la polizia slovena e quella di Tolentino e risolvere anche alcune problematiche della casa di riposo. Non meno importanti le prospettive per elaborare strategie di progetti da finanziare con i fondi della comunità europea. Maggiori dettagli nelle interviste curate da Luca Romagnoli. Nuova visita della delegazione di Isola d'Istria, comune gemellato con Tolentino, guidata dal sindaco a cui diamo il benvenuto in città. Un altro incontro molto proficuo sotto vari aspetti. Oggi si è parlato di turismo, di collaborazione con la polizia locale delle due città, ma anche di casa di riposo e di economia. Sì, 40 anni di fratellanza è un'epoca molto molto lunga, però ogni visita nasce qualche nuovo programma e proprio questi nuovi programmi che abbiamo parlato con il sindaco e i suoi collaboratori è nata una nuova iniziativa. Abbiamo deciso di visitare anche la nostra casa di vecchi, di riposo e parlare con gli operatori come si può fare per trascorrere in questa casa più sano, più bene. Soprattutto abbiamo parlato del problema di ambiente e i programmi che possiamo fare su questo campo. Agnese Babic è uno dei due vice sindaci del comune di Isola d'Istria e quello che tra parenti si cura i rapporti con la comunità degli italiani e rappresenta tutti gli italiani d'isola. Un gemellaggio che dura da più di 40 anni, lei è arrivata da giovane partecipante al Canta Piccolo e ora si ritrova vice sindaco della città. Quindi davvero tanti anni bellissimi di amicizia tra queste due realtà. È vero, tantissimi anni che però proprio nell'ultimo periodo secondo me è stato rinnovato in qualche modo questa collaborazione. Naturalmente l'amicizia anche fra determinate persone, individui, cittadini sia di Isola che di Tolentino si è mantenuta in tutti questi 40 anni. Però credo che forse negli ultimi dieci anni effettivamente si è rinnovata in qualche modo questa collaborazione proprio anche a livello comunale e amministrativo tra i due comuni. Cosa molto importante, come detto, non soltanto a livello culturale, diciamo che in qualche modo è stato quello un po' il fattore più importante o comunque di partenza che però negli anni si è tramutato e si sta tramutando proprio sempre di più nell'ultimo periodo in una collaborazione anche, possiamo dire, quasi di aggiornamento professionale fra le varie amministrazioni. Cosa molto importante e interessante anche perché magari si riuscirà anche nel prossimo futuro, io spero che continui anche questa intenzione, questa idea di collaborare, capire le best practice, possiamo dire, da una parte e dall'altra. Oggi è stato anche ribadito quanto sia importante la collaborazione proprio tra le due realtà per tutto ciò che riguarda la possibilità di accedere a fondi europei, quindi con progetti condivisi. Sì, noi a Isola abbiamo deciso di stabilire un ente pubblico con quattro professionisti che lavorano soprattutto sui progetti europei. Entrambi i nostri paesi, così l'Italia come la Slovenia, facciamo parte di questa macro regione e qui ci dà nuove opportunità per una ancora più larga collaborazione fra i nostri comuni. Si sta pensando appunto di indirizzare questi progetti nel sociale? Sì, nel sociale, anche nell'ambito turistico, sportivo, dei investimenti nell'infrastruttura, ci sono tanti modi in quali possiamo collaborare come due comuni come Isola e Tolentino per esempio. In questi giorni è stata accertata la presenza di almeno un orso nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. I carabinieri forestali avevano segnalato danni ad apiari verificatisi nei giorni tra il 5 e il 10 maggio nei comuni di Montegallo, Montefortino e Fiastra. A seguito delle segnalazioni, i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Parco hanno potuto accertare che i danni sono stati arrecati da un orso, specie presente nell'Appennino centrale con la sottospecie orso bruno marsicano. La presenza di orsi nel parco è stata accertata in più occasioni negli ultimi anni. Finora si è sempre trattato di individui maschi, questi specialmente se giovani possono andare in dispersione e raggiungere luoghi relativamente distanzi dal territorio di origine, rappresentato dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'atteso show della squadra acrobatica dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato si sposta nel piazzale della stazione. Domenica 15 maggio i piloti Renato Sgherbi e Fabio Flaugniacco si esibiranno dalle ore 18 in uno spettacolo dal vivo patrocinato dal comune di San Severino Marche e che sarà presentato dal presidente della sezione maceratese dell'AMS, Giorgio Iacobone. Il parcheggio di via San Sebastiano si trasformerà in un vero e proprio circuito per ospitare le esibizioni della squadra acrobatica, che nelle ultime settimane hanno continuato gli allenamenti in un'area della zona industriale di Taccoli, messa a disposizione dal comune settempedano. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le altre notizie di sport. Previsioni per sabato 14 maggio. Cielo sereno, precipitazioni assenti, temperature in lieve diminuzione, venti a regime di brezza, mare e quasi calmo in mattinata, poco mosso nel pomeriggio.